Sicuramente troviamo una squadra che assieme a noi dovrà sudarsi la salvezza, perciò dobbiamo andare là e provare a fare la nostra partita, a fare risultato in qualsiasi condizione. Dovremmo andare a fare una battaglia, una guerra perché pesare è un campo difficile, loro hanno e pece nel testimone esperienza di una salvezza anche l'anno scorso lottando con le unghie e con i denti e sicuramente troveremo una squadra pronta a questo tipo di partita e noi non dovremmo essere chiaramente da meno. Andiamo là perché vogliamo giocarcela, vogliamo vincere, portarla via e quindi diciamo che questo stato di emergenza e spero anche la freschezza dovuta all'innesto di Seth Henry ci dia l'energia giusta per andare lì e fare una partita tosta perché ci aspetta veramente una battaglia. Perché Henry le motivazioni sono tante, intanto è un giocatore che ha delle caratteristiche che a noi possono essere molto utili, un giocatore di grande energia, fisicità, difesa, un giocatore che è molto veloce a coprire il campo, quindi diciamo che al di là del fatto che a noi serviva un playmaker come a uno normalmente serve bere durante il giorno non perché io ce n'ho qui uno accanto che si è dovuto sobbarcare anche un lavoro improbo per un mese però per tanto tempo, per tanti tratti della partita dovevamo fare senza un americano in più era un giocatore che veniva dal nostro campionato e quindi ci consentiva un tesseramento rapido senza senza la spendita di un visto che visto anche l'andamento del infortunista della nostra squadra facciamo tutte le corna però voglio dire diciamo bruciarlo senza avere un'alternativa valida secondo me non aveva senso anche perché questo è un giocatore secondo me che fa il caso nostro per caratteristiche e per mentalità. Chiaro che essere in tanti è un attimino più facile soprattutto perché così riusciamo magari ognuno ad essere sfruttato nella maniera migliore per cui sono contentissimo che la società si sia mossa e anzi ci dia una grossa mano per questa partita importante inserendo un giocatore come appunto ne abbiamo persi tre strada facendo adesso sicuramente in un ruolo delicatissimo dove credo che eravamo anche più scoperti visto che appunto di playmaker puri non ne avevamo. È chiaro che non sono contento delle prestazioni che ho avuto in campo perché penso che posso sicuramente fare meglio. Ti dico portare sulla palla a pressati da gente di 1,75 che è 10 anni più di me non lo facevo quando avevo 23 anni mi viene difficile farlo a 35. È chiaro che invece se vengo utilizzato per magari giocare qualche pick and roll senza aver fatto 10 metri su e giù ho una freschezza diversa ma come per esempio può essere che Baso ti rimedio se è con i piedi per terra ma chi vuoi che lo lasci dopo 20 anni di carriera è la prima cosa che gli tolgono quindi è normale che abbiamo sicuramente tantissima esperienza in panchina ma anche gente che ci conosce da una vita e che ovviamente preparano le partite per toglierci le nostre sicurezze i nostri punti forti. Per cui ripeto io sono convinto che più siamo e più è facile che ognuno faccia le cose che sa fare meglio.